Con il vice coach del volley soverato Diego Boschini presentiamo questo match di domenica prossima in cui il volley soverato ospiterà la neopromossa Talmason con pagine friulana neopromossa che farà visita quindi alle bianco-rosse, una partita come tutte le altre che sarà sicuramente impegnativa un soverato voglioso di riscattarsi dopo il K.O. di domenica scorsa in casa della capolista Sì, come dici te, vogliosi di riscattarci, di fare una bella partita soprattutto in casa dove finora comunque abbiamo sempre dimostrato di farne un punto di forza il palascopa quindi sicuramente la voglia c'è tutta, il lavoro in palestra è sicuramente ottimo Certo, si va a incontrare una squadra che comunque non è assolutamente, pure se non è promossa da non sottovalutare in tutti i sensi perché comunque c'è una banda che ha già fatto la due l'anno scorso C'è comunque una posta straniera abbastanza buona, hanno dei centrali comunque buoni e soprattutto hanno fatto anche dei risultati importanti contro Sassuolo in casa di Sassuolo dove noi siamo andati a perdere e loro hanno vinto quindi sicuramente è una squadra che fa il suo punto di forza, l'ordine in campo perché sono ben messi in campo e noi troverò a trovare la chiave giusta di volta della partita per poter scardinare questo loro ordine Ci avviciniamo praticamente alla fine del girone d'andata di questo girone A in questa regular season un soverato che è stato probabilmente un po' altalenante nelle prestazioni la classifica comunque è buona, terzo posto un soverato che però dimostra di poter avere ancora margini di crescita forse deve trovare quella continuità di gioco che gli permetterebbe anche di conseguenza di avere una continuità di risultati Io credo che, sì, i risultati chiaramente sono da vedere sono piuttosto altalinanti però mi soffermerei comunque su quanto di buono la squadra sta facendo nelle condizioni chiaramente in cui lo sta facendo che non sono di certo delle condizioni del tutto al 100% ottimali quindi queste analisi comunque andrebbero viste sempre un po' a 360 gradi quindi è un po' difficile Sicuramente il nostro obiettivo è quello di far sempre meglio questo è fuori discussione quindi si entra in palestra ogni volta e si cerca di dare il massimo Con Anna Caneva presentiamo questa sfida di domenica contro Talmason qui alla Palascoppa un soverato che deve riscattarsi dopo la prova di domenica scorsa a Marignano sappiamo che le partite casalinghe sin qui sono state un punto di forza per il volle soverato che ha sempre vinto quindi è importante riprendere la corsa Ciao a tutti Sì, sicuramente il fattore casalingo per noi è importante in questo momento c'è solo che ha portato insomma delle grosse soddisfazioni Ora ci dobbiamo riprendere, sì da una sconfitta comunque era con una squadra veramente molto ben organizzata adesso ne dobbiamo pensare solo a domenica un avversario sicuramente da non sottovalutare anche perché a noi servono questi punti per continuare un buon cammino che già stiamo facendo quindi niente, testa domenica e giocare bene Un terzo posto da rafforzare attualmente ma con la consapevolezza che questa squadra ha margini di crescita e quindi ha un roster che può migliorare ulteriormente ovviamente ci sono state delle difficoltà anche per via di alcuni infortuni in questo avvio di stagione Sì, sicuramente abbiamo grandi margini di crescita anche perché sembrano tante partite ma siamo ancora solo al girone di andata quindi c'è ancora tanto da fare, da lavorare tanti punti da poter prendere la maggior parte di noi è molto giovane quindi sicuramente avrà da dare ancora ancora tanto e noi con loro per ora comunque anche se sono state delle partite difficili ce ne sono altre tante che ci possono dare delle grosse soddisfazioni siamo terze, è comunque un buonissimo risultato e non ha così troppi punti comunque essendo appunto solo il girone di andata Infine l'ultima domanda praticamente mancano solo due gare al termine del girone di andata che idea ti sei fatto di questo girone A del campionato che sta disputando il Valle Soverato che si preannunciava faticoso anche con ritmi molto intensi perlomeno per quello che si è visto sin qui si sta confermando tale Sì, sicuramente ci sono delle partite come fra settimanali che non ti permettono di lavorare come vorresti sempre però noi abbiamo la testa su ogni partita quindi cerchiamo sempre di affrontarla al meglio si sta per concludere con due partite ci sono sicuramente delle squadre che nonostante la classifica non sono da sottovalutare perché è un girone abbastanza equilibrato per ora la prima in classifica si sta dimostrando leggermente più avanti delle altre ma è lunga quindi cercheremo tutti come altre squadre penso di fargli lo sgambetto noi dobbiamo solo stare attenti partita dopo partita grazie a tutti